Io volevo riportare il nostro ricordo al futuro, più che al passato, ricordarmi di un Tony un po' cyberpunk, anche grande esperto di intelligenza artificiale, come mi è capitato di discutere con lui. Di solito con lui si discuteva, almeno per quanto riguarda i miei interessi, le mie ricerche di nuove tecnologie, delle nuove composizioni del lavoro e anche di intelligenza artificiale. E però questo era stato per me appunto una palestra collettiva. E quello che faccio oggi, devo dire, è in debito teorico e politico, anche con tutti i dibattiti che abbiamo fatto molto tempo fa, anche qua, tra Padova e Venezia, al centro Vega, mi ricordo, un meeting della vecchia università nomade, in cui si discuteva, andando ancora poi indietro nel tempo di lavori materiali, di lavoro cognitivo, di capitalismo cognitivo, credo, le prime ricerche di Tony, di Maurizio su lavori materiali, cominciarono qua, nei distretti del nord-est, per poi replicare in parte la ricerca anche nei distretti di Parigi. E oggi, quando a un certo punto oggi parliamo di intelligenza artificiale, i compagni che si sono occupati di questi temi, di lavori materiali e lavoro cognitivo, non sono in qualche maniera sorpresi. Questi temi sono, questi concetti, ne parlavamo anche prima con Sandro, erano un po' sperimentali, un po' parziali, li abbiamo abbandonati perché erano appunto concetti esplorativi. Però oggi, vista la composizione tecnica, secondo me, c'è stato, abbiamo fatto, insomma, una ricerca fertile e anche profetica, oggi, per quanto riguarda quella che è la composizione oggi. Cioè, parliamo oggi dell'intelligenza artificiale, però è la composizione tecnica oggi, quella che chiamano gig economy, del capitalismo delle piattaforme, delle nuove forme di lavoro, della logistica, è una nuova composizione che, secondo me, dovremmo andare a ristudiare e a politicizzare. E mi ricordo un po' di mesi fa, è stato, credo, a giugno, quando ci siamo incontrati anche con Giuditta, al Caffè del Rosso, a Campo Santa Margherita, che Tony, in maniera fulminante, disse, riguardo all'intelligenza artificiale, lui disse, credo che internet, i media digitali, siano arrivati per spazzare via l'operario sociale. E oggi l'intelligenza artificiale emerge per spazzare via le forme del lavoro cognitivo. Lo disse in due secondi, come battuta fulminante, però, in qualche maniera, secondo me, cioè, ci aveva preso, aveva colto quella che è la dimensione antagonistica di quello che oggi si chiama l'intelligenza artificiale, ma che è una forma di automazione del lavoro e di una forma di controllo del lavoro in maniera nuova, insomma. E quindi quello che discutevo con lui, ma che ho anche discusso con voi, è questo rapporto nuovo con la tecnologia che sta sempre dentro questa dialettica, che è quella che Tony chiamava riappropriazione del capitale fisso, con questo termine molto hegelo-marxista, pesante, difficile da tradurre, anche a nuovi ambiti, e dall'altra parte questa dimensione antagonistica, antagonista, che dobbiamo coltivare nello studio della tecnologia, che tornava sempre a ricordare a me, perché mi ricordo appunto quando feci una relazione al Centro Vega, mi ritornava sempre un po' scettico dei miei studi. Però col tempo ha continuato a lavorare, credo che oggi abbiamo anche grazie ai suoi interessi un po' appunto cyber, un po' futuristi sull'intelligenza, sulle nuove tecnologie, grandi concetti per poi fra l'altro riportare la centralità del lavoro come categoria al tempo stesso politica e analitica per affrontare il presente. E qui mi fermo.